secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie 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 i don't get it i get it if you need an armor swap get an armor swap but you're in there like taking your time like did you forget that they were fighting another enemy suka who were they fighting then suka who were they fighting suka why are you sitting there thinking that suka but you're gonna hit nä怎么 okay Cazzo non è uscżegna Inizia Uscela Noi Ci rai Ci rai Ci rai Vi Ci rai Piazza prezicare i! Uouè! Sì! Sì, un po like! L'ocko! Sto del cirolo! Piace Team取られた! Piace Team取られた! Mi нужно 3 oので E'iませ! Sto del cirololo! Lo rezoguolo! Sto del cirolololo! Non è La cosa che facciamo chi è! Sto del cirololo! Sto del cirolololo! Sto del cirolololo! ... Non mi piaceva. Non mi piaceva. Mi ha detto che non mi piaceva. Mi ha detto che non mi piaceva. Ah, è vero! È vero che è il giusto. La chi è più difficile da fare. Chi non è mai un po' di più... Io si tratta la mia ragazza. Mi tratta di che non mi ha capito. Io non mi ha capito uno. Mi ha capito... Si quando mi ha capito un po' di più, si tornano i piccoli. Mi ha capito di essere così... no no acta 600 i expanded esgitto isgitto robbi oh k ok Le ballova, lo ballova, dei ballova piaccato in Gen utilization Epetit VK Lo va rimando, lo VANknu SS In fronti Bilbo Large The animismo entrappin AFA No thatYAT Oh my god Oh my god No What the fuck is you talking about? Nice Ryzen queuing up AT on Ryzen I'm throwing over here I'm popping a bat I'm not taking a bat Jesus Christ Okay, let's just pass me down CS7 maybe? I'm not getting a bat Thank you What the fuck is that? What the fuck is that? Ziyun! 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 Oh my god I'm still shooting What? Ziyun! 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 Ho un po' che scelsi il progetto. Mi chiamo a te! Ho una volta! Eccolo! Eccolo sta! Mi smaceremo! Ciao! Mi smaceremo! Vieni! Si ci sono un po' che flacce da. Ci tutto sta via. Perché sono un po' che so' qui? Ho un po' che vieno! Is trying to gasp at us They're getting For kills, for kills, in the air, 40 flush Behind us, find us Bro Oh my god There's, 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 on me, on me, on me I'm, making him shoot me, oh my god, out, oh my god, dude He went back in the diner, he went back in the diner, maybe, maybe your eyes, maybe your eyes, maybe your eyes No They're alive, oh My god, dude Bro, you are weird You are We're gonna fuse, dude What are we gonna work, work for this, rock, maybe? Cause dome should go Listen, no, I have the idea, I have the god plan Listen to me, let me eye gel, let me eye gel Can I eye gel this, can I eye gel this, can I eye gel this? No, shut the fuck up, slow, shut the fuck up This is what you're paid for, we're working the left Yeah, we, this is above your pay grade I'm just wrong I was gonna say that, we shoot the team, they're gonna make him go around the right side of eggshell, and then we play that Yep, simple Yeah, but we have to bully the right as well, like I'm gonna start bullying the train card team Oh, they're gonna do it 重點來了 幹你娘,你居歪啦 嚇死人 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 我們要你解約 什麼條件都要你談了 7月,7月14號還在談這個東西 7月15號 直播上的標題,我臭你媽的個B 你寫說,我好想打比賽喔 我好想打比賽喔 開始情樂公司 暗示跟觀眾暗示 隊友不讓他打 教練不讓他打 公司不讓他打 都是對的錯 自己永遠是對的 幹你娘,居歪啦 讓你解約 讓你重新談合約 鬥魚我們少抽一點 你要走也給你走 也就他媽30萬的事情 而且還是兩年分歧不款 欸我好想打比賽喔 我最強 為什麼他們不讓我打比賽 到底是殺小啦 殺小啦 Hello, teammates I'm currently gonna I'm gonna attempt to 1v3 If I die, it's my fault And I apologize I apologize 666 777 1v3 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 傑倫哥 我應該要把這隻解完 這隻 都 Sì Non c'è il tempo che aveva visto can we punch this guy he's weak oh wait what's going on well the horizon's low the horizon's low you win this you win this the horizon's low oh no are you serious no you guys ready okay yes yeah I'm walking over they're out there they're out there lay the fuck out of them knock us one knock us one okay all that all that back up 30 seconds on zone batting them coming to you I'm looking for the fire you have to run I've got you I've got you I've got you I've got you he's no I'm I've got you I'm 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 I am 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 Grazie.